buongiorno a tutti allora come è andata la quindicesima giornata del campionato di serie a perché io vi ho parlato naturalmente della partita interspezia in maniera spiccia perché comunque c'era poco da dire partita scontatissima ma andiamo a vedere come sono andate le altre di partite partendo da fiorentina sandoria fiorentina sandoria che ha visto la sandoria passare in vantaggio con gabbiadini e poi come succedeva con la longobarda la fiorentina era fredda loro hanno preso il gol a freddo si sono scaldati e gli ha rifilato tre pere perché prima a caleona ha accorciato le distanze poi vlaovic ha portato in vantaggio la fiorentina e poi sottil segnando un gol molto simile a quello che segnò a noi ormai qualche qualche settimana fa per non dire qualche mese fa portata ha portato a tre e stavolta è stato un gol pesante mentre l'altra volta no perché poi l'inter la ribaltò comunque fiorentina sandoria 3 a 1 vlaovic sugli scudi 100 gol 100 gol con la fiorentina libidine e a me va bene e ce l'ho al fantacalcio proseguiamo col massacro atalanta venezia 4 a 0 o meglio pasalic venezia ciao ciao perché pasalic sugli scudi tripletta addirittura del buon pasalic e in mezzo ai suoi tre gol c'è anche il gol di cox miners che è da libidine anche quello atalanta tanta roba signori l'atalanta è tanta roba è vero che gasperini gasperini continua a buttare acqua sul fuoco dicendo che loro non sono da scudetto che loro puntano la zona champions eccetera 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 però questa atalanta è lì è lì è lì al quarto posto e ci sta bene perché comunque un certo vantaggio anche sulla quinta e quindi l'atalanta come direbbe qualcuno l'atalanta c'è ed è pericoloso andiamo a salernitana juventus la per l'ultima partita del martedì sera se non erro si fiorentina atalanta e poi salernitana juve perché poi dopo giorno dopo c'è stato vero la cagliari una tristezza comunque salernitana juve dibala sugli scudi nel bene e nel male perché porta in vantaggio la juve poi la salernitana sfiora il pareggio anzi tiro di il giocatore salernitana che prende il palo interno ranieri se non sbaglio ma magari mi sbaglierò comunque tiro a botta sicura da centro area perché praticamente era certo era leggermente defilato sulla destra ma è lì tra il dischetto del rigore la porta è spostato però tra tiro palo interno palla che attraversa tutta la porta e va fuori occasione dopo cross in mezzo e morata di giustezza tac in mezzo alle gambe di belec e poi dopo vabbè c'è dibala che batte un rigore in maniera come come la batte il capitano del adesso mi sembra del celsi che lo tirò alle stelle in una finale di champion scivolando ecco più meno uguale praticamente è andato per calciarlo è scivolato l'ha colpita un po con un piede un po con l'altro la palla è finita alta poi c'è la sorpresa signori dopo verona cagliari 0 a 0 di cui non vi parlo perché sapete che io non sopporto io gli 0 a 0 non li sopporto quindi mi rifiuto di parlare di verona cagliari è uno 0 a 0 quindi non c'è nulla da dire veniamo a bologna roma bologna roma è stata la sfida tra abraham e skorupski e purtroppo per la roma l'ha vinta skorupski perché gli ha parato tutto o la palla usciva o sennò c'era skorupski che volava e parava tutto gli ha parato tutto non ne poteva più cioè abraham non mi sa che se lo sogna di notte skorupski che gli parava tutti i tiri purtroppo lui patrizio il tiro di biliardo di swamberg e non lo prende e no che non lo prende non lo prende e no che non lo prende non lo prende no che non lo prende e la roma perde bologna roma 1 a 0 però signori miei dire che la roma ha giocato male eccetera io vedendogli ai live devo dire che la roma le sue occasioni le ha avute purtroppo ha trovato uno skorupski in versione sala cinesca e un abraham che ogni tanto la palla la mandava fuori di tanto così su un bel colpo di testa altre occasioni altri tiri quando c'entrava la porta si trovava davanti quello che gli parava l'impossibile e lì c'è poco da fare veniamo all'altra partita piccola sorpresa perché sassuolo napoli sembrava essersi messa in una determinata maniera prima ruiz poi mertens hanno portato il buon napoli sul 2 a 0 ma poi prima scamacca e poi ferrari hanno portato il risultato sul 2 a 2 e poi c'è stata il gol annullato il gol annullato per quel mezzo fallo di berardi sul giocatore del napoli diciamo che lì l'arbitro cioè in quelle situazioni ragazzi quelle sono situazioni che dava il gol sbagliava non l'ha dato ha sbagliato uguale ma non c'entra se sei del napoli o se sei del sassuolo quelle sono situazioni in cui qualsiasi decisione un arbitro prende sbaglia cioè qualsiasi decisione prende perché quello era fallo e non era fallo punto non si poteva decidere se decidere in un modo nell'altro sbagliavi comunque sono quelle situazioni in cui possiamo starne a discutere tutta sera e non arrivare a una conclusione e io lo continuerò a dire perché purtroppo avendo essendo diversamente giovane avendo visto un po' viole su un po' viole su un po' viole c'erano certe situazioni in cui dieci persone che dovevano decidere se quello era fallo o se era rigore se era quello che volete non arrivavano a una decisione univoca cinque la pensavano in un modo cinque nell'altro e anche se c'è ripeto persone che magari non c'entravano nulla con entrambe le squadre quindi più neutrali possibili questa è una situazione al limite poteva essere fallo come dava il gol sbagliava non l'ha dato ho sbagliato uguale io resto di questa idea ci sono situazioni in cui l'arbitro non può qualsiasi decisione prende sbaglia e purtroppo questa decisione pesa perché il sassuolo avrebbe vinto non era un gollettino del 4 a 0 che chi se ne frega era un gol che valeva due punti in più che per il sassuolo magari non cambiava niente vista la situazione di classifica che ha è lì tranquillo in una posizione ibrida e anche due punti in più non gli avrebbero cambiato la vita però potrebbero fare una differenza importante ai fini del campionato in un campionato in cui anche un piccolo punto può essere importante proseguiamo con genoa mira un altro massacro genoa che ha iniziato primi minuti bene con quel tiro alto di cambiaso poi dopo la punizione di ibra non c'è stata più gara ibra la mette poi fa doppietta messias che si è svegliato non ha mai segnato così tanto manco nel crotone vabbè comunque ogni tanto giocavano col genoa quindi ci sta belli i gol non nulla da dire poi vabbè messias ha segnato anche l'atletico madrid quindi libidine però ripeto passeggiatina di salute del del bilan sul genoa diceva che probabilmente starà pensando chi me l'ha fatto fare di venire ad allenare sta squadra tempo non so neanche se finirà non riuscirà a mangiare il panettone per me richiamano ballardini un'altra volta ma anche se richiama ballardini cambia poco o a gennaio compran qualcuno o sennò questa squadra va in serie b e se finiscono in serie b l'ultima giornata di campionato non escono dallo stadio per due mesi finché non inizia quello nuovo sempre che restino a genoa andiamo a torino empoli altra bella partita con il torino che scappa prima pobega poi piaca golasso perché pobega fa il gol da furbetto palla in area arriva tac tocchettino quasi a porta vuota e un a zero ma il gol di piaca gol di piaca parte da sinistra si accentra nessuno lo prende tiro a giro e due a zero poi si go si go come te sapel ho cia paurus si go si go e si go a prende uso rosso perché c'era il giocatore delle empoli che stava scappando lui l'ha trattenuto fuori area inizialmente l'arbitro ha dato il giallo poi si è reso conto che il difensore del torino che stava rinvenendo al momento del fallo era ancora dietro quindi fallo da ultimo uomo fuori area quindi rosso cambiata la decisione rosso torino che non fa in tempo a restare in dieci che romagnoli di testa sul calcio d'angolo accorcia le distanze e poi intorno alla metà del secondo tempo minuto più minuto meno perché eravamo al settantesimo settantunesimo eccetera l'amantia ancora di testa se non ricordo male pareggia per un 2 a 2 definitivo pareggi che belli è quando succedono i pareggi per 2 a 2 però servono a poco va bene che sono due squadre che per il momento sono abbastanza tranquille per quanto riguarda la zona retrocessione anche perché dietro vanno avanti a un punto ogni tre partite quando va bene quindi si possono stare anche tranquilli lo spezia a 11 punti da una vita e quarto ultimo forse da un mese forse anche di più e dietro vanno avanti a un punto sconfitta 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 un punto sconfitta 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 un punto ora che prendono basta che fa una vittoria allo spezia posto per altri due mesi prima che lo vengono a prendere concludiamo con la partita di doppia libidine coi fiocchi contro fuori fiocchi che è Lazio Udinese perché veramente l'ho vista l'ho vista partita che ho visto mi sono fomentato mi sono divertito comunque Udinese che scappa con la doppietta di Beto e il primo gol è un bel colpo di testa ma il secondo gol veramente ha messo via la difesa della Lazio come come il burro come un coltello nel burro perché Sassess prende la palla nella metà campo dell'Udinese lui si lancia mentre ancora nella metà campo dell'Udinese con i due difensori che gli sono davanti gli serve la palla Sassess lui la prende si incunia in mezzo ai due difensori li saluta proprio gli dice ciao io vado in porta partendo alle loro spalle quindi loro erano girati lui arrivava di fronte va via secco arriva in area quindi si fa tutto la metà campo palla al piede fino all'area di rigore esce il il portiere della Lazio lui sposta la palla lo lo aggira e poi con un bel diagonale batte anche il difensore che si era messo sulla riga per cercare di salvare la palla 2 a 0 Udinese non fanno in tempo ad esultare che Immobile accorcia le distanze su una bella azione di Filippe Anderson che crossa poi la palla si impappina in mezzo ai difensori eccetera arriva Immobile che a porta vuota segna la Lazio non fa in tempo ad esultare che azione sulla fascia dell'Udinese cross in mezzo Molina bello tranquillo diagonalone 3 a 1 non fanno in tempo che Pedro perché al primo tempo termina sull'1 a 3 poi nella ripresa la Lazio entra in campo incazzosa Pedro Milinkovic e Cerbi ribaltano completamente la partita e poi nonostante una Lazio in 10 per l'espulsione di Patrick perché comunque poi dopo dieci minuti c'è Molina che si fa espellere anche lui anche lì è entrato modello Banzai sul giocatore della Lazio altro giallo espulso anche lui a l'ultima azione praticamente c'è sappi che si guadagna un calcio di punizione al limite dell'aria spostati sulla destra era quasi calcio di rigore era appena fuori area defilati sulla destra naturalmente nessuno controlla Arslan al limite dell'aria passaggio del giocatore per Arslan calcia potentemente verso la porta palla sotto l'incroce 4 a 4 io credo che un 4 a 4 nel campionato italiano mancava da un botto di tempo comunque signori miei è stata una giornata libidile andiamo a vedere un attimino così per curiosità i gol allora qua c'è Genoa Milano Torino e Empoli sono già 7 7 3 10 e 4 14 14 4 18 e 4 22 22 e 8 di Lazio 30 più 2 di Inter Spezia 32 32 reti anche nella giornata infrasettimanale vedremo tra oggi domani e lunedì quanti gol faranno io credo che staremo più o meno sulla stessa falsariga anche perché ci sono tante partite libidine che potrebbero regalare tanti gol detto questo andiamo a vedere un attimino la classifica che si è accorciata tantissimo abbiamo il Napoli a 36 il Milan a 35 l'Inter a 34 e l'Atalanta a 31 e queste sono le quattro squadre che sono lì vicine vicine come direbbe qualcuno certo l'Atalanta è leggermente più attardata ma non vuol dire nulla solo due settimane fa l'Inter era a 7 punti adesso ha due punti è un punto dal mila poi abbiamo Roma a 25 Fiorentina Juventus Bologna a 24 Lazio a 22 Verona Empoli a 20 Sassuolo 19 Torino 18 Udinese 16 Sadori e Venezia 15 e qua mi fermo perché ci sono adesso le quattro squadre che per il momento si giocano l'unico posto disponibile per la salvezza per ora poi bisognerà vedere Venezia Sadori e Udinese se riescono a allontanarsi ulteriormente o se verranno invischiate anche loro in questa lotta a 4 per salvarsi perché abbiamo lo Spezia 11 il Genoa 10 il Cagliaria 9 la Santana 8 per il momento sono solo loro 4 essendo che Venezia e Sadori sono a 15 punti certo adesso il Genoa gioca con la Juve la Salernitana gioca a San Siro col Milan il Cagliari non mi ricordo con chi gioca però credo che Genoa e Salernitana rimarranno lì a 10 8 punti lo Spezia gioca col Sassuolo è vero che gioca in casa però il Sassuolo ho visto in questi dopo il 2 a 2 il libidino e col Napoli mi sa che lo Spezia se lo mangia proprio in un sol boccone poi o magari il calcio tutto può accadere e bisognerà vedere il Genoa il Genoa ve l'ho detto e il Cagliari con chi gioca che non mi sovviene vabbè non succede mica niente sicuramente queste quattro squadre qua qualora una di queste e se finalmente vincere una partita si allontana proprio perché visto l'andazzo che vanno avanti a 0,25 punti a giornata più o meno perché lo Spezia ve l'ho detto è a 11 punti non so da quanto tempo ancora salvo certo se non si danno una mossa Tiago Motta non mangia il panettone e lo Spezia rischia di finire in Serie B e il rischio c'è anche perché a parte la Salernitana che si sapeva addirittura parlano che se a gennaio non cambia il proprietario la Salernitana addirittura potrebbe essere cancellata già spedita in Serie B direttamente e quindi tutte le squadre che nella Gerone di ritorno dovranno giocare con la Salernitana avranno tre punti fissi vedremo cosa succederà il buon Lotito per ora non ha trovato nessuno che se la pigli almeno per sei mesi faccia finta di comprarsela poi gliela restituisce gliela vende a un euro simbolico per sei mesi e poi gliela restituisce perché se no qua la Salernitana rischia e in più falsiamo il campionato perché è vero che con la Salernitana sono tre punti sicuri per quasi tutte poi pallone rotondo tutto può accadere però credo che almeno quelle che lotteranno per la zona Champions con la Salernitana tre punti all'andata tra il ritorno dovrebbero farli poi vedremo cosa succederà ragazzoli vedremo questa giornatina qua che teoricamente dovrebbe essere molto favorevole per le due capoliste più dura per l'Inter no favorevole per il Napoli no perché c'è lo scontro diretto con l'Atalanta Napoli-Atalanta è vero è favorevole al Milan Milan salernitana passeggiata di salute tre punti sicuri e qualora Napoli-Atalanta come ho pronosticato dovessero pareggiare il Milan tornerebbe primo se e sottolineo se l'Inter dovesse vincere a Roma e Napoli-Atalanta pareggiare aggancerebbe il Napoli e quindi avrebbe un Milan primo con le altre due a un punto dal Milan con libidine e un'Atalanta che comunque a 32 può ancora dire la sua tranquillamente dietro vedremo lo scannamento per le zone Europa League e Conference League per ora poi io sinceramente vedendo l'andazzo mi sa tanto che queste quattro qua non mollano le prime quattro e quindi sarà molto difficile per quelle dietro riuscire ad andare a colmare la differenza almeno con l'Atalanta perché le altre tre mi sa che volano poi vedremo cosa succederà il pallone rotondo e tutto può accadere aveva andato il De Profundis al Napoli perché non aveva Usimen però mi sembra che stiano segnando lo stesso molto bene poi purtroppo per loro la partita col Sassuolo è andata come è andata però il Sassuolo non è che è l'ultimo dei è una buona squadra che in casa può dire la sua vedremo vedremo è un campionato comunque da doppia libidile coi fiocchi perché tre squadre che si giocano lo scudetto è divertente è piacevole e poi è anche bello vedere queste neopromosse questo Venezia e questo Empoli che stanno facendo molto molto bene invece Venezia e Salernitana le davano già morte invece per ora l'unica che è mezza morte è la Salernitana ma non ancora perché lì ha tre punti dallo Spezia e finché lo Spezia è lì in zona se la giocano tutti certo una volta che Spezia e Eugenia dovessero allontanarsi sempre di più e magari andare a inglobare qualche altra squadra ma il campionato è ancora lungo siamo solo alla sedicesima che è la prossima su 38 quindi hai voglia detto questo scusate mi sono dilungato troppo ma sapete che mi piace ciaccolare ci vediamo alla prossima ciao ciao